Oh, senatore, buonasera. Senatore, buonasera. Non dover dare le carte. Sto benissimo. Benissimo, si sta meglio all'opposizione. Insomma, le mani sui gruppi parlamentari le ha tenuto lei. Molto bene anche i gruppi. Buonasera. Saludito, saremo molto. Quindi lui, in buona sostanza, che ci dice? Ehi, ecco. Fa benissimo. E' altra volta. Saranno cinque anni complessi, insomma.